Il mese di matto passiamo il mese di giugno Diego Lanova Buon ultimo mese di giugno Stefania Di Giorgio Stefania Di Giorgio Ti salutiamo Stefania Di Giorgio Stefania Di Giorgio Stefania Di Giorgio Il titolo della canzone che Roberta Strova e Andrea Cazzulani hanno preparato per noi è Un giorno bellissimo di Rita Ci auguriamo davvero che ogni coppia che ci festeggiamo abbia vinto i ricordi delle loro nozze come un giorno bellissimo Ci sento respirare sui ricordi delle loro nozze come un giorno bellissimo E' un giorno bellissimo, bellissimo per stare insieme E' un giorno bellissimo per continuare A diventare la diventazione a te E' un giorno bellissimo per stare insieme E' un giorno bellissimo per stare insieme E' un giorno bellissimo per continuare E' un giorno bellissimo per stare insieme 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 E' un giorno bellissimo per continuare E' un giorno bellissimo per stare insieme Grazie a tutti Ecco, non ci sono state delle persone che purtroppo, malgrado, ci siano impegnati per recuperare il vestito, non c'è stato verso poi di recuperare Allora proiettiamo comunque le loro fotografie con grande, con grande piacere e andiamo a citare uno a uno Allora, 60 anni addirittura di matrimonio Enrico Mariani e Carla Pozzi Allora, non guardiamo in faccia a nessuno, sempre le stesse anni di matrimonio Nozze di chiamate, Carlo Martabelli e Maria Scondi 55 anni di matrimonio per Cesare Marchesi e Maria Agnelli 35 anni di matrimonio per Marco Tofforo e Laura Bonobio 35 anni di matrimonio per Giuseppe Pogliani e Raffaele La Canucini Sempre 35 anni di matrimonio per Renato Milani e Assunta Maria Pogliani 25esimo forse dal cibo per la nostra Grannata con Giuseppe Gianni 25 anni 25 anni Eccoci qua, anche qua sono completamente investito dopo milioni di ricerche in scuole, purtroppo non è stato possibile recuperarlo, però credo che ci sia una sorpresa, credo. Chiamano Stefania, Lorenzo, eccoli, hanno rimediato comunque con questa spiegata maglietta relativa ai nostri primi 11 anni, Stefania e Lorenzo. 15 anni, anni per Luca Faridutti e Cristina Belloni. 10 anni per Carbani e Dadeo. Grazie. Abbiamo lasciato i due cantanti con più esperienza come ciliegina sulla torta. Lorena Tavassi e Giorgio Roschi canteranno per noi una bellissima canzone di Ron. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Applausi e Giorgio Roschi canteranno per noi una bellissima canzone per noi una bellissima canzone per noi una bellissima canzone per noi. Applausi e Giorgio Roschi canteranno per noi una bellissima canzone per noi una bellissima canzone per noi. Grazie. 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 Fede Sicuramente mi avrete appostato anche voi Se avete la pazienza potete addirittura Perché anche i miei sono disposti nel patio E portarvi la mia stanza Vi ricordo anche che nella baratta C'è allestita la passione di beneficenza Dobbiamo costruire un paulatorio Cerchiamo di prendere tutte le occasioni Che non vanno in tutto il paulatore una volta Grazie a tutti e buona sera Grazie a tutti e buoni che avete la capacità Sono disposti e buoni A tutti veramente grazie di buone Ne aspettiamo un anno che conosciamo Questa manifestazione Se ci sarà volontà di farlo a buona E se è stata garantita Vi aspettiamo di seguire un quarto in tutto E spaviamo il primo numero della notte media Grazie a tutti e buoni di buoni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti